oggi parliamo di un argomento molto importante i registri per badanti colf e babysitter cosa vuol dire registri per badanti colf e babysitter poco tempo fa abbiamo fatto un video che parlava dello sportello badanti dell'ufficio di milano servizio estremamente importante questo modello che non esiste solo a milano sia ben chiaro parliamo di lombardia sta prendendo piede sempre di più cosa vuol dire il comune organizza uno sportello badanti uno sportello colf o uno sportello babysitter in cui seleziona le persone che hanno i requisiti quindi la badante la colf la babysitter in base a delle caratteristiche ha partecipato a dei corsi a top tempo di esperienza la sua conoscenza della lingua italiana dopodiché dopo aver selezionato il personale se arrivano delle famiglie che hanno richieste di badanti colf o babysitter il comune passa il nominativo alla famiglia ma non solo osserva che la badante la colf o la babysitter sia assunta con il giusto contratto ma controlla anche che il lavoro della badante colf o del babysitter sia giusto e regolare in lombardia sta passando una legge regionale che dà incentivi ai comuni che aprono questi tipi di sportelli leggendo l'articolo del corriere della sera che cosa abbiamo scoperto innanzitutto che l'esperienza migliore è quella del comune di sesto san giovanni lo sportello badanti esiste da più di dieci anni il comune di milano ha aperto sia lo sportello badanti sia lo sportello babysitter allora vi do dei numeri purtroppo sono ancora un po bassi allora vi faccio un esempio sono iscritte 1779 badanti allo sportello badanti del comune di milano ma il comune è riuscito a trovare lavoro solo a 353 persone esiste anche uno sportello babysitter al comune di milano dove sono registrate 646 persone ma purtroppo hanno usufruito di questo servizio solo 17 famiglie quindi solo 17 persone hanno trovato lavoro attraverso questo sportello percentuali basse ma la regione e la regione lombardia si sta muovendo per promuovere una legge per spingere questo tipo di sportello per le badanti per le colfe per le babysitter sia italiane che straniere questa cosa è importantissima noi vogliamo invitare badanti colfe e babysitter a cercare di capire se nel loro territorio esistono degli sportelli badanti colfe o babysitter dove registrarsi perché sempre di più questa storia prenderà piede giustamente ma non solo invitiamo le colfe e badanti e babysitter come segnato dall'articolo a rivolgersi alle agenzie stando attente a non cadere in agenzie che truffano le lavoratrici ma soprattutto invitiamo le famiglie a rivolgersi a questi tipi di sportelli è un servizio fantastico che non solo garantisce voi e garantisce il lavoratore ma va aiuta in un percorso insieme perché nasce questa esigenza dello sportello badanti per contrastare il lavoro nero da un dato sulla lombardia che mi ha molto colpito mi ha molto colpito che cosa è uscito che in lombardia ci sono 70 mila badanti registrati in regola ma si è calcolato che le badanti presenti nel territorio lombardo siano almeno 160 mila qui da questa cifra confrontate viene fuori il dramma vuol dire che i due terzi delle badanti in lombardia hanno un contratto in nero è un problema come segnala l'articolo e come segnala la ricerca svolta dalla regione lombardia questa situazione di lavoro in nero spesso porta ad episodi di sfruttamento e conflitti con questo video noi vogliamo invitare tutti i comuni tutte le persone che possono spingere i comuni ad aprire questi sportelli badanti golf e babysitter sono un servizio ormai fondamentale per il nostro territorio ma soprattutto invitiamo tutti alla lotta al lavoro nero perché è un problema sociale speriamo che questa informazione sia stata utile a col badanti babysitter e alle famiglie che hanno bisogno di questo servizio massimo il cerca badanti punto it